Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo all'openal32.dll che non è stato trovato quindi non è installato nel nostro sistema operativo quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare e installare così questo programma ovviamente andiamo direttamente nel nostro pacchetto RAR che abbiamo scaricato entriamo così nel nostro pacchetto RAR, clicchiamo direttamente sull'applicazione openal installer, file csdk farà così l'estrazione dei file della configurazione windows installer, aprirà così l'install shield wizard, next accettiamo così la licenza, facciamo next, installiamo direttamente il file nel percorso file del programma qui nel disco locale C facciamo next e facciamo install e installiamo così il nostro servizio una volta fatto quello che ci resta da fare è riavviare il sistema si lancia l'openal, no, facciamo no e facciamo next se non dovesse funzionare con questo metodo c'è un altro file quindi il programma di installazione di windows openal 1.1 quindi facciamo questo qua, scarichiamo questo qua on list stessa cosa che abbiamo fatto con quell'altro programma facciamo ok installazione completata e abbiamo installato tutti e due i programmi possiamo anche cancellare i pacchetti RAR se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere l'errore riguardo all'openal 32.dll iscriviti, lascia like per altri problemi, commenta sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao